Ma la campagna prosegue, attiva da ieri la piattaforma per effettuare le prenotazioni collegandosi all'indirizzo prenotazioni.vaccinicovid.gov.it per chi non è stato ancora vaccinato ma solo fra gli over 80. Infatti oggi abbiamo provato anche a contattare il numero verde dedicato l'800009966 ma per la Calabria ci hanno specificato che al momento non c'è possibilità di prenotazione per i pazienti fragili e con patologie.